Laudentur Iesus et Maria Carissimi amici Siamo alla seconda puntata del ciclo di Catechesi dedicata alla figura di Giuda Iscariota il mistero di Giuda ossia come emerge la figura dell'Apostolo traditore negli scritti di Maria Valtorta Nella scorsa puntata abbiamo visto il primo incontro tra Giuda Iscariota e Gesù e soprattutto il consiglio di quest'ultimo di pensarci bene prima di andarsi ad imbarcare nell'impervio e certamente avvincente ma molto impegnativo cammino dell'essere discepoli il signore subito come abbiamo visto cerca di sollecitando il libero arbitrio evidentemente come sempre fa di dissuadere Giuda dal percorrere una via che l'avrebbe portata alla rovina io invito subito a pensare su questo punto prima di proseguire la lettura e pensarci molto attentamente tenendo presente una cosa che quando colleghiamo il cervello dobbiamo farlo funzionare bene essere anche in grado di fare tutte quante le inferenze non le illazioni quindi le inferenze logiche che dipendono da certe premesse vi spiego qualcuno potrebbe dire ma perché se sapeva che l'avrebbe tradito e quindi sarebbe andato a dannarsi Gesù non ha respinto Giuda non l'ha cacciato non gli ha detto no punto e basta vediamo se qualcuno io adesso non rispondo subito quindi do un po' di tempo perché sia che ascolta in diretta sia che ascolta in differita perché capite farsi alcune domande non è una cosa campata in aria se uno fa questa domanda a scopo tendenzioso per mettere Dio sotto processo come cantava di Erziani Orson un certo cantautore bestemmia e fa un peccato mortale ma se uno si pone la stessa questione non dire ma perché ha accettato Giuda quindi che la dannazione di Giuda è colpa di Gesù accusare Dio della propria dannazione è una bestemmia imperdonabile questo sia ben chiaro per tutti però uno può farsi una domanda allo stesso modo non allo scopo di mettere Dio sul banco degli imputati ma allo scopo di dire ma come mai perché non gliel'ha impedito non cioè perché non gliel'ha impedito con tono polemico quindi ho già deciso che ha sbagliato il Padre Eterno no ma per per essere formato per essere per capire per la mia formazione perché da questo dipende anche dalla comprensione di quello che Dio fa con me è anche la radice di tanti guai che passiamo perché attenzione allora Dio ci mette sempre in condizioni di poter fare la scelta giusta cioè tu vai da 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 Gesù tutto gasato tutto entusiasta ah io vengo subito dice pensaci bene cioè che cosa ti sta mettendo ti sta dando come dire un insight ti sta dando un warning no pensaci bene cosa hai detto ma no ho già pensato ho già deciso vogliamo parlare dei matrimoni distrutti a questo riguardo eh il Signore mi ha dato la croce di un marito te l'ha data il Signore la croce di un marito ma sei proprio sicuro perdonatemi se sono un pochino diretto oppure brutale sei proprio sicuro che te l'ha data il Signore la croce o te la sei andata a prendere tu volontariamente perché non hai sufficientemente ponderato gli elementi che ti erano stati dati per pensarci 30 volte prima di sposarti quel tizio o quella tizia te l'ha data il Signore la croce no te l'ha setata da solo la croce non è quella la croce capite la croce non è quella la croce non è quella che noi ci andiamo a mettere sulle spalle con le nostre cretinate il responsabile della condanna di Giuda solo Giuda non è il nostro Signore ci sono due idee distorte del Padre Eterno che dobbiamo distruggere l'idea che lui deve fare le cose al posto mio oppure mi deve mettere nell'impossibilità di sbagliare ma questo sta soltanto dentro la testa bacata nostra e mi ci metto pure io dentro io per primo io sono il primo non è che sto facendo il maestro al prossimo mi ci metto io dentro per primo cioè Dio deve sostituirsi a me nelle decisioni ed impedirmi di fare le cose sbagliate sentirete quante volte Giuda gli dice dice questa cosa a Gesù tu me lo devi impedire e come lo accuserà al termine della sua vita terrena di questo ah se tu sapevi che io se ho fatto questa fine perché non mi ha impedito e Gesù risponde perché tu l'hai voluto tu hai insistito tu hai voluto a tutti i costi fare questa cosa Dio rispetta la libertà dell'uomo questo principio cioè ce lo dobbiamo strapanare perdonatemi il termine e mettercelo dentro il cervello il principio del rispetto della libertà da parte di Dio quando non c'è rispetto assoluto della libertà della persona stai tranquillo che ti trovi dinanzi ad una cosa in cui Dio non c'entra Am I understood lo dico in inglese oppure lo dico mi sono spiegato oppure citando un noto blogger che ho già citato nella nomina di oggi pomeriggio così facciamo le ripetizioni dico avete capito o ve la devo spiegare uno però c'è un'altra non quella che Dio si sostituisca nel decidere ma la soluzione fatalistica cioè l'uso distorto della volontà di Dio e la non comprensione del fatto che certamente non si vuole voglia che Dio non voglia e che esista una volontà permissiva di Dio ma la volontà permissiva di Dio non è la volontà di Dio è chiaro che Dio permette che una persona pecchi potrebbe impedirlo ma certo che potrebbe impedirlo ah ma Dio l'ha permesso quindi e quindi cosa Dio l'ha permesso ma non l'ha voluta quella cosa lì chiaro noi se vogliamo stare come dire tra virgolette al sicuro per quanto ci si possa stare in questa vita dobbiamo stare attenti a due cose primo io oggi sono un pochino carico del Vangelo di oggi a cui rimando l'omenia che è già online che l'ho proprio intitolata provocatoriamente l'avete capito che la devo spiegare ma non perché non perché cioè perché Gesù conclude il Vangelo di oggi quando fa l'esempio dice guardatevi dal livido dei farisei e di erode e gli apostoli cominciano a dire dunque abbiamo finito il pane mi tolgo gli occhiali lo faccio sempre come gesto come dire che uno trasecola dice ma scusate dico avete finito il pane ma non vi ricordate quando non moltiplicate la prima e la seconda volta sono avanzati 12 c'è la prima e 7 volte la seconda dico ma qual è il problema ma non avete capito a che cosa sto facendo riferimento quindi non dobbiamo preoccuparci di cercare di metterci del nostro per capire quello che Dio vuole da noi primo e secondo cercare quello che Dio vuole con volontà intenzionale non quello che Dio permette con volontà permissiva perché quello non è bene è chiaro che Dio può trarre lo sappiamo che Dio può trarre il bene dal male e che Dio scrive dritto sulla dica storte ma non dobbiamo per questo adesso faccio il male perché Dio ne trarrà qualcosa di bene ma dico ma dico oppure adesso io scrivo storto tanto poi Dio drizzerà ma dico io mi scaldo un po' non perché ho voglia di scaldarmi evidentemente perché c'è la stufa accesa a casa quindi non c'è bisogno di scaldarsi ma perché queste cose sono frequentissime sono e queste cose sono state la rovina di Giuda Iscariota e potrebbero diventare la rovina di più di qualcuno sono stato chiaro ecco non ripetiamo la fase la frase del simpatico youtuber adesso prendiamo il libro e andiamo al secondo capitolo che è meglio però ci tenevo a a fare questa questo stress ok quest'underline perché insomma allora come comincia il titolo del secondo capitolo a proposito di questa introduzione che ho fatto si chiama così non cercato si impone come discepolo ecco qua cominciamo subito male cominciamo la famosa volontà umana non cercato si impone come discepolo sapete come dice il proverbio no non c'è questo dobbiamo capirlo bene perché dai vangeli questa cosa qui non si capisce bene perché si dice soltanto che Gesù a un certo punto sceglie i dodici tra cui anche Giuda Iscariota ma non c'è il retroscena ecco perché Gesù ha dato uno dei motivi per cui ha dato l'opera perché nel vangelo c'è tutto cioè uno ci può arrivare a certe cose perché se legge tra le righe alcuni discorsi alcuni passaggi quando Giuda che ne so che teneva la cassa seramenta dei poveri a destra a sinistra ma non c'è tanto non c'è tanto cioè che pia sti sordi poi se pente li riporta indietro cioè ci sono degli elementi ci vuole un genio insomma per andare a ricostruire in base a un genio che comunque vada per ipotesi vada no cioè non è che tu hai l'attestato incontrovertibile che le cose sono andate in un certo modo questa chiaramente è un'informazione che deriva da una fonte qualificabile come rivelazione privata quindi se uno non vuole tenerne conto non ne tenga conto però guardate che io non ricordo cioè io non ho mai letto questo libro per intero lo faccio in diretta lo faccio però tutti i contenuti di questo libro l'ho letto io perché l'ho letto l'opera dieci volte adesso forse saranno sei sette non vuoi dire bugie non mi ricordo ma l'ho letto tante volte ok e questa cosa è un dato è il primo dato che emerge in maniera netta lui non è stato chiamato da Gesù anzi lui è stato dissuaso da Gesù e sentiremo oggi e sentendo questo capiamo anche cominciamo a pensare matrimoni sbagliate vocazioni sbagliate gente che non doveva farsi prete doveva doveva stare a casa sua doveva cambiare il lavoro doveva fare un'altra cosa eh ma è diventato prete vogliamo parlare anche di cose più greve ma è diventato vescovo e lasciamo perdere il resto cioè non è guardate adesso non voglio cioè è diventato vescovo l'ha eletto lo spirito santo ma vogliamo dirne un'altra è diventato papa l'ha eletto lo spirito santo ma chi te l'ha detto a te cioè ma che razza di discorsi sono questi qui chi ce la dà la garanzia assoluta ma scusate ma certi papi ci sono stati nel corso della storia della chiesa ma io non ci credo che lascetti lo spirito santo ma scusate se poi qualcuno mi vorrà scomunicare mi scomunichi ma non è così ma scusate i papi che poi hanno avuto le concubine dimostrate nel corso della storia e è meglio che non vi racconto certe cose in diretta né indifferita perché è meglio non saperle l'ha scelto lo spirito santo e con questo andiamo a giustificare da qualche parte si dice la qualunque perché l'ha scelto lo spirito santo quindi si silenzio tutto ma dico ma stiamo scherzando stiamo vogliamo far funzionare il cielo ma può lo spirito santo scegliere ma scusate ma scusate ma ci rendiamo conto che bestemmiamo o no ci sono degli strumenti umani ma se ma se uno come mi pare che era Vincenzo D'Aleren poteva scrivere alcuni papi il signore li dona aspetta altri non mi ricordo cos'era altri li tollera altri li tollera e altri li infligge cioè te li dà come castigo non l'ho scritto l'ha scritto un beato l'ha scritto è un beato con un cervello che gli faceva il fumo non era a livello di San Tommaso ma insomma stava sulla buona strada scusate lascia il tuo spirito santo giusto? cioè questo ciclo di catechesi deve cercare un attimo di farci aprire un pochino la testa figlia dei miei cari perché se no qui non ci siamo proprio io mi trovo a parlare tutti i santi giorni tutti i santi giorni con le persone che mi contattano in diretta o via telefonate con delle situazioni tutte uguali dove devo stare continuamente a dire ti senti quello che hai detto guarda che stai già cioè rifletti ok? va beh se continuo non leggiamo neanche il brano oggi allora non cercato meno male che il capitolo è breve quindi si vede che oggi dovevo parlare un pochino più io tanto non sono uscito dal tema non cercato si impone come discepolo non mi tolgo gli occhiali non perché sono esterrefatto ma perché da vicino tra le varie infermità della mia età semile c'è anche questa che non vedo un tuborg da vicino e devo togliere gli occhiali bene allora vedo Gesù sotto degli olivi è seduto su un balzo del terreno nella sua posa abituale bellissimo con i gomi tipoggiati sul ginocchio gli avambracci in avanti le mani congiunte facciamogli una fotografia per chi sta in video faccio un po' di sceneggiata Gesù stava sempre stava spesso così non si vede quindi seduto gomiti sulle ginocchia mani intrecciate e testa soprattutto quando pregava o quando pensava perché Gesù guarda un po' Gesù pensava tanto beh che il logo stivino pensi che male che ecco però pensava forse anche in questo ci dava un pochino di buon esempio quindi se siete su un balzo del terreno fotografiamo sta scena bellissima nella sua posa abituale ci stava spesso così sapete che i tratti della nostra personalità sono un po' caratteristici noi abbiamo tutti quanti delle mosse delle espressioni delle cose che facciamo queste sono le nostre sono Gesù era così bello pure conoscere un po' qualche tratto della chiamiamola tra molte virgolette personalità di Gesù perché qui sul tema della personalità diventa un pochino complicato perché la persona di Gesù è divina cioè c'è una vera umanità però la persona è il verbo di Dio quindi si entra in 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 ambiti dove dove si toccano delle corde molto molto delicate perché è meglio non non andarsi a imbarcare in sentieri del genere no? vabbè comunque avambacci in avanti e mani congiunti cala la sera e la luce diminuisce sempre più nel folto o diveto Gesù è solo si è levato il mantello come avesse caldo e la sua veste bianca mette una nota chiara nel verde dell'uovo che il crepuscolo fa molto oscuro un uomo scende fra gli olivi ma chi sarà? pare cerchi qualcosa o qualcuno è alto vestito di un abito di tinta allegra un giallo rosa che fa più vistoso il mantellone tutto a ondeggianti frange non lo vedo bene nel volto perché la luce e la lontananza lo pietano e anche perché tiene un lembo del mantello molto calato sul volto quando vede Gesù fa un atto come per dire eccolo e affretta il passo a pochi metri saluta salve maestro Gesù si volge di scatto e alza il volto perché il sopraggiunto è sul balzo sopra la stante Gesù lo guarda serio e direi mesto l'altro ripete ti saluto maestro sono Giuda di Keriot non mi riconosci? non ricordi? ricordo e riconosco sei quello che qui mi hai parlato con Tommaso la scorsa Pasqua faccio un pit stop lo guarda serio e mesto dobbiamo fare un altro flash su questa scena penso che tutti sappiamo se non lo sappiamo ve lo ricordo io io rimasi abbastanza sconvolto l'ho raccontato qualche volta quando ero in seminario ormai parliamo della preistoria io tengo quasi vent'anni di sacerdozio ormai siamo prossimi incredibile venne un personaggio esterno che erano un prete psicologo figura che lascia il tempo che trova comunque ci disse ma l'assoluto non esiste quindi che in base agli studi di cui lui era a conoscenza il 70% della comunicazione interumana è non verbale questa cosa mi 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 sconvolto cioè significa che noi comunichiamo uff con tono di voce sguardi gesti eh ma anche tante altre cose e io sono sempre stato molto attento a tante cose no modo di camminare mh un modo di vestire ce ne sono tanti questa informazione mi lasciò alquanto sconvolto oh ma questo era ancora niente perché da prete quindi diversi anni dopo mi ricordo ero già a Borgo San Michele quindi sicuramente ero prete già da qualche anno incontro un vecchio amico che era diventato un pezzo grosso e lavorava in Confindustria e partecipa a tutti quanti questi master di formazione eccetera eccetera mi ricordo come uscì e io tutto quanto tronfio tutto quanto perché questa informazione l'avevo salvata evidentemente è un'informazione troppo sconvolgente me la ricordavo dico oh ma lo sai Marco che il 70% della nostra comunicazione umana non è verbale mi guarda e mi fa no ti sbagli dico no no non mi sbaglio me l'ha detto il super prete psicologo in seminario dice no no questo dato è da aggiornare io ho partecipato recentemente a dei super master di super formazione della Confindustria sapete che numero vi ha dato questo qui? il 92% della comunicazione non è verbale ma questo vale anche per chi ascolta il podcast di questa catechesi io potrei mettermi a fare un pochino il pagliaccio adesso nel senso che è vero che io stop se uno ascolta il podcast dice ma no io ascolto ascolto semplicemente le parole non è del tutto esatto questo qui perché non ascolti le parole se ascolti il podcast ascolti le parole pronunciate con un certo timbro di voce con certe pause con una certa enfasi minore maggiore quindi non ascolti semplicemente le parole se leggi uno scritto allo scritto allo scritto uno si arrende sulla comunicazione scritta allo scritto è scritto d'accordo? però anche lì entro certi limiti cioè uno dovrebbe fare la scritta come dire avete visto no? se uno volesse la scritta a caratteri continuati senza virgole senza punti senza punti esclamativi perché già nel modo con cui uno scrive come mette la punteggiatura come mette le virgolette come mette le cose anche lì c'è una parte della comunicazione che comunque esula allora Gesù lo guarda triste e mesto dico Giuda Escariota lo vuoi attenzionare questo particolare Gesù non guardava tutti quanti triste e mesto quando vedeva San Giovanni gli facevano gli occhi a cuoricino anche Gesù scusate quando vedeva la Madonna gli facevano gli occhi a cuoricione quattro cuoricioni a occhio forse con il dovuto rispetto perdoni in Dio carità no? anche quando vedeva Pietro anche quando vedeva gli altri apostoli nonostante le imperfezioni che avessero torna Giuda anziché dire benvenuto amico hai pensato? oh sono contento che hai pensato bene no lo guarda serio e mesto lo sguardo Vangelo secondo Marco se volete andare a fare una cultura è proprio il Vangelo dei gesti di Gesù no? quindi quando si arrabbia si arrabbia si indigna cioè ma no che si indigna proprio una cosa simile a questa qui no? quando cominciano a fare se a rompergli le scatole che non si possono con le cose di sabato quando dice dice al parale gli dico stendi la mano e guarda ma solo Marco non nota questo qui e guardando intorno questi qui con indignazione rattristato per la durezza dei loro cuori guarisce quindi li guarda intorno con indignazione cioè la guardate con indignazione dice ma oh ragazzi ma di che cosa vogliamo parlare ma io sto maestro per guarire una persona sto ma siete così fuori di testa che non posso farlo perché è sabato ma siamo fuori siamo e rattristato per la durezza del loro cuore ma attenzione quando la sacra scrittura parla del cuore non dobbiamo pensare al cuore come lo intendiamo il cuore è al centro della della persona cioè ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore canta la Madonna Santissima nel Magnificat cioè la superbia è operazione che nasce nell'intelletto non è che nasce nel cuore ma non sentimento ok non fa caso allo sguardo Mesto è serio quindi lo sta ammonendo e dice uè gli sta dicendo ma che sei tornato a fare ti ho dato una chance vattene via fino a quando puoi vabbè ricorda e riconosco se quello che qui mi ha parlato come hai parlato con Tommaso la scorsa Pasqua e al quale tu hai detto riprende Giuda pensa e sappi decidere prima del mio ritorno ho deciso vengo adesso attenzione perché vieni Giuda Gesù è proprio Maestro perché ma te l'ho detto l'altra volta perché perché io sogno il regno di Israele e re ti ho visto fotografia questo è Giuda questo è il motivo per cui ha tradito ci sono arrivati tanti esegeti ce lo dice già da adesso subito quando ha capito che Gesù questo non era lui l'ha sempre seguito lo vedremo questo sogno ho parlato del Vangelo di San Marco sapete perché nel Vangelo di San Marco è il cosiddetto Vangelo del segreto messianico cioè Gesù non vuole quando dicono tu sei Messia non lo devi dire a nessuno ma come caspita come dice dire a nessuno cioè negli altri Vangeli addirittura dice va oltre io sono il figlio di Dio nel Vangelo di Giovanni lo dice proprio io e il padre mio siamo la stessa cosa e nel Vangelo di Marco non vuole far neanche sapere che è il Messia che è il primo step io dico che tu sei il Cristo dirà San Pietro il figlio del Dio vivente quindi il Messia e non solo il Messia ma il figlio di Dio fatto uomo come me il Vangelo di Marco c'è il seguito messianico proprio per questo fatto qui perché il Vangelo di Marco usa questa come dire strategia narrativa per far comprendere come Gesù era preoccupato cioè non è che era preoccupato era consapevole che una larga parte dell'ebraismo attendeva un Messia eccolo qui il regno di Israele il sogno del regno di Israele il Messia chi era era colui che avrebbe rivestinato i fasti del regno di Davide tutto qui e di Salomone primo periodo non ultimo periodo dopo mille anni perché da dopo la pazzia di Salomone al termine della vita pazzia totale per usare un eufemismo Dio gli promette il regno del tuo figlio sarà diviso si dividono il regno di Israele il regno di Israele e il regno di Giuda il regno del nord viene distrutto nel 722 del Babilonesi fine del regno di Israele e il regno di Giuda con capitale Gerusalemme e Tempio di Gerusalemme viene fatto fuori da Nabucodono nel 596 del Babilonesi dopodiché continua la dinastia soltanto del regno di Giuda di cui era anche l'ultimo esponente Erode Erode il Grande per firmarci alla nascita di Gesù e poi Erode Antipa quello che ha fatto ammazzare San Giovanni Battista e poi Erode Agrippo Erode Agrippa scusate quello che ha fatto ammazzare San Giacomo il fratello di San Giovanni il primo martire del gruppo apostolico che trio eh mamma mia che scienziati che fenomeni eh il Grande Antipa e Agrippa mi verrebbe una battuta alla romana ma mai risparmio ok Agrippa Gesù dice per questo vieni perché hai visto il re per questo metto me stesso e tutto quanto posso di mio capacità conoscenze amicizie fatica al tuo servizio e al servizio della tua missione per ricostituire Israele quindi non solo cioè che capite cioè vengo e ti do una mano perché io ho tante amicizie ho risorse i due ora sono di fronte vicini in piedi e si guardano fissamente Gesù serio fino alla mestizia l'altro esaltato dal suo sogno sorridente bello e giovane leggero e ambizioso dice Gesù io non ti ho cercato Giuda io non ti ho cercato ma pure quello è diventato prete ma io non ti ho cercato voi pensate che una persona che entra in seminario ci entra per necessariamente per vocazione a proposito di spirito santo interpellato in maniera è entrato in seminario quindi c'ha c'ha la vocazione ma chi te l'ha detto c'ha la vocazione dove sta scritto guai ai superiori guai ai vescovi che non fanno un discernimento serio e che ordiano le persone anche in presenza di un solo dubbio serio e fondato a casa se c'è un solo dubbio serio e fondato io non ti ho cercato io non ti ho cercato quindi vattene a casa Gesù non lo dice questo qui ma lo lascia intendere l'ho visto risponde Giuda ma io ricercavo sono giorni e giorni che ho messo persone alle porte per segnalarmi l'arrivo tuo pensavo saresti venuto con dei seguaci e perciò che facile sarebbe stato il notarti invece ho capito che c'è ristato perché un gruppo di pellegrini ti benediva per aver guadito un malato ma nessuno sapeva dirmi dove eri allora ho ricordato questo luogo e sono venuto se non ti avessi trovato qui mi sarei rassegnato a non trovarti più sentite la risposta di Gesù credi che sia stato un bene per te l'avermi trovato ma vedete con quanta delicatezza ma anche con quanta chiarezza cerca di no però vedete anche che cosa può un cuore ostinato che si è messo in testa una cosa guardate che quando un uomo si mette un uomo una donna insomma nessun uomo si mette in testa una cosa provatela a togliere dalla dalla testa io se c'è una cosa che ho imparato a temere alla venerabile età di quasi 53 anni quasi 20 di sacerdotio giusto giusto sono le persone un po' troppo sicure delle proprie idee delle proprie cose eccetera eccetera tutti quanti dobbiamo avere evidentemente specialmente se persone mature una personalità delle idee delle convinzioni ma attenzione noi dobbiamo sempre lasciare la famosa porticina chi te l'ha detto che non ti stai sbagliando ma dove sta scritto questo non è un segno di debolezza perché non è che si cade come dire nel caos nel buio totale quindi nel nebuloso non so più a che santo vuotarmi no tu ce l'hai il tuo patrimonio di convinzioni le tue idee per carità ma lasci allo spirito santo una porticina aperta per dirti ma che stai a ti questo farà agire lo spirito santo quando uno entra mi faccio un esempio borderline in una setta fenomeno molto più diffuso di quanto si pensi non si pensi a una setta come chi lo sa che ne so i gruppi satanisti oppure cose molto molto più semplici c'è la mega setta per esempio dei testimoni di Geova sapete quali sono le tecniche di questi luoghi qui è il chiudere la persona all'interno del gruppo senza possibilità di un confronto fecondo esterno cioè chiunque è all'esterno è il diavolo d'accordo e non lo devi sentire così sei morto perché è chiaro che se questo meccanismo fino a quando funziona questo meccanismo nessuno potrà aiutarti a capire che stai dentro una setta e a darti uno spiraglio per uscirne fuori questo succede solo quando questo meccanismo entra in crisi quando entra in crisi nei realissimi casi cioè quando qualcuno magari vede una cosa macroscopica che lo turba che lo scandalizza e comincia a mettergli una pucce dentro l'orecchio e questo comincia a sentire il bisogno e dice fammi andare a parlare con qualcuno che sia fuori dall'ambiente e questa è la sua salvezza capite cosa c'è dietro Giuda credi che siano bene per te l'avermi trovato quindi Gesù sta cercando di farlo riflettere di smontargli questa sua cosa cioè questo aveva già deciso che il Messia era questo e che essendo questo io devo andargli dietro per condividerne la gloria e anche per farmi un pochino splendido e bello nel senso di mettere a disposizione le cose le risorse che ho per dargli una mano finito il discorso chiuso cosa risponde Giuda sì poiché ti cercavo ti desideravo ti voglio Gesù perché perché mi hai cercato ma te l'ho detto maestro non mi hai compreso ti ho compreso risponde Gesù sì ti ho compreso ma voglio che anche tu mi comprenda prima di seguirmi vieni parleremo mentre camminiamo e si pongono a camminare l'uno al fianco dell'altro su e giù per le stradelline che intersecano l'uliveto tu mi segui per un'idea che è umana Giuda io te ne devo dissuadere non sono venuto per questo Giuda risponde ma non sei tu il designato re dei giudei quello di cui hanno parlato i profeti altri ne sono sorti ma loro mancavano troppe cose e sono cadute come foglia che il vento più non sorregge tu hai Dio con te tanto che opere di miracolo dove a Dio si cura è la riuscita della missione hai detto bene io ho Dio con me io sono il suo verbo io sono il suo verbo sono quello profetizzato dai profeti promesse patria archi atteso dalle folle ma perché o Israele tanto si è divenuto cieco e sordo da non sapere più leggere vedere udire e comprendere il vero dei fatti vero qui sta in corsivo il mio regno il mio regno non è di questo mondo Giude dissuaditene ad Israele io vengo a portare la luce e la gloria ma non la luce e la gloria della terra io vengo io vengo per chiamare i giusti di Israele anche i miei carnefici da Israele ma anche il mio traditore da Israele faccio un altro pit stop perché qui poi al seguito del dialogo diventa ancora più interessante allora qui Gesù gli rivela chi è non solo il Messia è solo il figlio di Dio sono il verbo del Signore i profeti certo che avevano profetizzato un re avevano profetizzato un regno certo avevano profetizzato una gloria certo e Gesù dice stai attento tu e tutti sarai da comprendere il vero dei fatti cioè di che regno si parla anche qui entriamo in un altro in un altro punto molto delicato cioè che quando Dio parla sei sicuro che tu hai capito bene non è tanto facile capire bene quello che Dio intende quello che Dio vuole esprimere non si può non possiamo noi come dire come dire anche su questo essere troppo sicuri allora vi faccio un esempio tutti gli eretici ma proprio tutti studiate la storia della Chiesa cioè l'esempio più famoso è quello di Ario hanno fondato le proprie eresie sapete su cosa non ve ne stupite su passi della sacra scrittura estrapolati dal contesto malinterpretati malintesi Ario c'è un passo del libro della sapienza che dice l'altissimo mi creò mi creò al principio delle sue azioni è evidente che lì si parla della sapienza increata ma usa il termine mi creò l'angelo di San Giovanni il padre più grande di me ah quanto accorgono a quell'ora non lo sa nessuno nemmeno il figlio ma solo il padre sono tre passi cos'altro dobbiamo dire diceva quell'eretico di Ario di Alessandria creato il padre più grande e ci sono alcune cose che lui non le sa e le sa il padre ditemi voi chi è il verbo può essere Dio da Dio luce da Dio ma no no è inferiore al padre sapete quanta gente andrà dietro a questa roba che sembrava convincente c'è stato quel poveraccio quel poveraccio poveraccio si fa per dire quell'eroe di Sant'Atanasio che era quasi solo contro tutti c'era dovuto andare a raggranillare i Vespi per fare quel concilio di Iniciato dove c'erano quattro gatti il credo che noi recitiamo la domenica vescovi che c'erano andati dietro la nostra grande maggioranza di pre del clero e dei vescovi chiaramente tutti quanti c'è c'è lo Spirito Santo no scusatemi se sono un pochino polemico lo Spirito Santo stava su Sant'Atanasio stava quindi anche su questo anche anche questo lo dico e lo dico in riferimento a quelli che la Chiesa sta vivendo un tempo travagliatissimo con delle situazioni abnormi paradossali incredibili a volte ma chi è che tira fuori dal cilindro ah questa è la soluzione si fa così ma tu sei sicuro io rispondo con le parole di nostro Signore Gesù Cristo sei sicuro chi te l'ha detto a te che è così l'hai capito solo tu come mai che nel panorama ci sono dei libri che l'hanno dimostrato dell'analisi della situazione attuale ecclesiale ci sono non si sa quante posizioni differenti come mai sei così sicuro che le cose stanno in un certo modo come qualcuno va sempre dicendo ma come come è possibile che ci sono venti posizioni differenti allora solo la presenza di questo fatto a che cosa invita alla cautela calmo tranquillo pensa rifletti pondera amici questo Giuda con questo incontro adesso lo vedremo ha passato un rubicone nella vita ci sono dei rubiconi sapete cosa era rubicone per giuro cesare no e che cosa disse dopo che aveva passato il rubicone alia i acta est cioè passato fatto quel passaggio tu apri una una prospettiva da cui non c'è ritorno ci devi pensare 50 volte prima di farlo anzi 100 ecco perché ho parlato dei matrimoni andati a schifio come dicono in Sicilia ci devi pensare l'uomo non pensa e non pensare è colpa mettiamocelo tutti bene in testa io è un tempo in cui come dire circostanze della vita a meno portare ad essere particolarmente sensibile a questo tema noi non possiamo fare le scelte come si dice oggi di panza o di pancia o di sentimento o di emozione sono stata la messa carismatica ammazza che bella è stata un'esperienza proprio emozionante è stata un'esperienza emozionante e beh e che te cambia nella vita no sono entrato pure ma non voglio usare il termine tecnico non voglio essere offensivo ho avuto quell'esperienza spirituale insomma e beh e poi che è successo e poi che cosa è successo cosa è cambiato nella tua vita hai smesso di fumare no e che c'è avuto a fare esperienza spirituale esperienza spirituale va bene chiudiamo se non lo facciamo in tempo allora Gesù dice anche i miei carnefici da Israele ma anche il mio traditore da Israele e Giuda interviene ah no maestro questo non sarà mai tutti ti tradissero io resterò e ti difenderò noi la conosciamo il senno di poi Giuda Gesù pure ma Giuda sicuramente no aveva escluso a priori cosa quello che sarebbe stato di lui vogliamo rifletterci un po' su questa cosa prima di fare anche noi le nostre sparate cioè noi esseri umani sapete che gli esseri umani sono più instabili di una banderuola io non lo so che fine farò domani voi oggi mi vedete così ma se mi dovesse impazzire mi raccomando dimenticatevi della mia esistenza state a quello credo che adesso non sono ancora impazzito d'accordo ma io lo so che potrei impazzirmi bisogna pregare tutti quanti i giorni che non facciamo una putta fine padre pio pregava tutti i giorni perché avesse la perseveranza finale ma noi siamo più grandi di lui noi più grandi di uno ha cioto la stima di aver 50 anni informatevi padre pio pregava tutti i giorni per questa cosa e impariamo se uno parla così te ne uno va subito a dirizzare 500 antenne per questo è una persona che è completamente cieca completamente fuori e era già completamente ingannata dal diavolo ce l'ha mandato il diavolo da Gesù non lo spirito santo capite ce l'ha mandato il diavolo da Gesù Giuda non lo spirito santo non c'è soltanto lo spirito santo che ispira ce ne stanno due che ispirano c'è lo spirito santo e c'è sta il diavolo che ispira ci stanno i criteri di discernimento Sant'Ignazio ci è passato una vita a scrivere queste cose chi ti ha detto lo spirito santo che ti ha ispirato bene tu Giuda no maestro questo non sarà mai tutti ridradissero io resterò e ti difenderò tu Giuda e su che cosa fondi questa tua sicurezza risposta sul mio onore di uomo boom risposta di Gesù cosa più fragile di terra di ragno Giuda è da Dio che dobbiamo chiedere la forza di essere onesti e fedeli l'uomo l'uomo compie opere di uomo oh non l'avevo letto io questa cosa qui quando ho detto che siamo peggio delle bande ruole per compiere le opere dello spirito e seguire il messia in verità e giustizia vuol dire compiere opere di spirito occorre uccidere l'uomo e farlo rinascere sei tu capace di tanto uccidere l'uomo e farlo rinascere lui ha appena detto frase che è esaltazione dell'uomo in quanto umano sei capace di tanto si si maestro subito stiamo a compensarci e poi non tutti Israele ti amerà ma carnefici e traditori al suo messia non ne darà Israele ti attende da secoli capito cioè qui abbiamo altro atteggiamento di qualcuno gli interpreti autentici della saga scrittura cioè il magistrato autentico della chiesa concili e papi avranno interpretato pochissimi passi della saga scrittura la stragrande maggioranza della saga scrittura udite udite non è interpretata in maniera autentica non è stata commentata da un sacco di gente dal padre della chiesa da santi da dottori da scrittori ma non c'è l'interpretazione autentica del magistero però ogni tanto sorge qualche oracolo e questa è l'interpretazione autentica Israele ti attende da anni non verrà da lì il traditore e chi te l'ha detto a te sta parlando il traditore di Gesù che ovviamente viene da Israele anzi dalla Giudea cioè il fiorfiore di Israele e Gesù risponde me li darà ricorda i profeti le loro parole e la loro fine io sono destinato a deludere molti e tu ne sei uno Giuda tu hai qui di fronte un mite un pacifico un povero che povero vuole rimanere io non sono venuto per impormi per fare la guerra io non contendo ai forti ai potenti nessun regno nessun potere io non contendo che a Satana le anime e vengo a spezzare le catene di Satana col fuoco del mio amore io vengo per insegnare misericordia sacrificio umiltà continenza io ti dico e da tutti dico non abbiate sete di umane ricchezze ma lavorate per le monete eterne disilluditi Giuda se mi credi un trionfatore su Roma e sulle caste che imperano gli erodi come i cesari possono dormire sonni tranquilli mentre io parlo alle turbe non sono venuto per strappare scettri a nessuno ed il mio scettro eterno è già pronto ma nessuno che non fosse amore come io sono lo vorrebbe impugnare vai Giuda e medita quindi seconda possibilità di pensarci e qui Giuda ha questa risposta mi respingi maestro? risposta io non respingo nessuno perché chi respinge non ama ma dimmi Giuda come chiameresti tu l'atto di uno che sapendosi malato di male contagioso dicesse ad uno ignaro che si accosta per bere al suo calice pensa a quello che fai lo diresti odio o amore? amore lo direi poiché non vuole che l'ignaro si rovine la salute chiama allora così anche il mio atto posso rovinarmi la salute venendo con te ma no mai più che la salute ti puoi rovinare perché pensalo bene Giuda poco sarà debitato a chi sarà assassino credendo di fare giustizia credendolo perché non conosce la verità ma molto sarà debitato a chi avendola conosciuta non solo non la segue ma se ne fa nemico io non lo sarò prendimi maestro non mi puoi rifiutare se sei il salvatore e vedi che io sono peccatore pecora sviata cieco fuori dal giusto cammino perché ricusi di salvarmi prendimi io ti seguirò fino alla morte alla morte dice Gesù è vero questo è vero poi poi maestro il futuro è in seno a Dio va domani ci rivedremo verso la porta dei pesci grazie maestro il Signore sia con te Gesù risponde e la sua misericordia ti salvi e tutto finisce finisce la visione purtroppo ma non è finita purtroppo non è finita così chiaro questo questo è uno a mio avviso dei brani in assoluto più drammatici di tutto perché qui abbiamo visto come ci si può scrivere la condanna a morte eterna con le proprie mani abbiamo visto la delicatezza di Gesù anche un ultimo esempio che fa bellissimo e come questa persona non si è lasciata dissuadere e correggere guardate che Dio fa sempre così Dio ci manda i warning ci manda gli ammonimenti ci manda i consigli ci manda le ispirazioni a volte qualcuno ci dice qualcosa ma le scelte sono sempre spettanti al nostro libero arbitrio ragazzi lo sport di fare l'uomo e la donna cioè di esercitare il nostro libero arbitrio non ce lo toglie nessuno è un gioco a cui bisogna giocare per forza non c'è possibilità noi siamo immagine e somiglianza di Dio non dimentichiamolo mai chi è Dio Dio è l'essere libero in senso assoluto Dio non può essere mosso né coartato da nulla e da nessuno non può per anturomasia Dio è l'essere intelligente in senso assoluto è l'intelligenza stessa il logos la seconda persona della Santissima Trinità è proprio l'intelligenza divina lo Spirito Santo che che espira appunto processionalmente per via d'amore e quindi è simbolo rappresenta la volontà è proprio l'immagine perfetta del libero arbitrio voi pensate lo Spirito Santo non non funziona mai senza il nostro libero arbitrio non funziona quindi pensate tutte quante le concezioni e idee fatalistiche deterministiche dello Spirito Santo di cui ho parlato durante il corso di questa catechia di sperimentare inizio sono una contraddizione in termini quasi dal punto di vista logico con questo episodio Giuda ha preso la penna e ha firmato in bianco la propria condanna a morte eterna nonostante tutti i tentativi di Gesù di dissuadarlo capite come al termine di questa catechesi si può si deve dire il popolar più proverbio quante volte questo si compie che a causa del suo mal pianga se stesso Dio cerca di risparmiarci se ci rendiamo a cercare Dio prende atto e si adegua al nostro libero arbitrio Dio vi benedica e la Santa Vergina sempre vi protegga laudento di Gesù Maria 7 2 2 3 3 4 8 12 16